Ciao ragazzi, siamo andati qui oggi per tornare a parlare del calcio marcato del Novara Ci sono importanti novità, come vi avevo anticipato nell'ultimo video di calcio marcato André Sbraga è andato all'Arezzo, ormai è ufficiale è ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di André Sbraga, classe 92, se non sbaglio all'Arezzo, squadra ultima nel Gione B che però c'è da dire gli ha offerto il doppio dell'ingaggio che percepisce qui a Novara quindi era anche abbastanza difficile dire di no Si perde una pedina importante, è eletto come miglior calciatore 2019-2020 del Novara e tra l'altro negli scorsi giorni gli è stato proprio consegnato questo premio da parte del club fedelissimo e quindi Sbraga è andato all'Arezzo ho già ringraziato Sbraga, ormai è tutto ufficiale comunque ha dato tanto al Novara, in particolare nell'ultimo anno e mezzo forse il primo anno non eccelso però Sbraga ha dato tanto, soprattutto nella stagione 2019-2020 dove è stato veramente un leader sia in campo che fuori quindi si perde André Sbraga come già detto non ci sarà bisogno di sostituirlo perché ripeto lì abbiamo quattro difensori centrali Bellic, Pogliano, Bove, Migliorini quindi comunque non c'è bisogno di andare a cercare secondo me e come detto anche dallo stesso Novara un quinto difensore centrale i problemi sono in altre posizioni del campo però c'è un colpo in dirittura d'arrivo non c'è ancora nulla di ufficiale attenzione, nulla di ufficiale però c'è un'indiscrezione importante un colpo in arrivo, si parla di Va, adesso non so se la pronuncia giusta Lorenzo Valeau forse sarà Valo, forse ha delle origini anche francesi Lorenzo Valo, io lo chiamo così, non so, non l'ho mai sentito terzino sinistro della Casertana in prestito dalla Roma classe 99 l'anno scorso stagione 19 20 28 presenze al Limolese un gol, titolare nel Limolese poi ovviamente non è giocato più di 30 perché poi il campionato è finito interrotto a febbraio e il suo arrivo andrebbe a completare la corsia sinistra insieme a Cagnano sarebbe il sostituto ideale di Cagnano perché abbiamo visto quando Cagnano è venuto a mancare non c'era un sostituto una volta ha giocato Boveli quindi non avevamo il vero sostituto di Cagnano che è venuto a mancare una volta per Covid e l'altra volta per Squalifica quindi dovrebbe arrivare con la formula del prestito perché ovviamente sia una cosa certa e noi in questo momento non possiamo spendere tanto dati già i grossi problemi scusatemi dati già i grossi problemi che avevamo che avevamo qui e quindi Lorenzo Valeo terzino sinistro ha giocato a Caserta 8 presenze quest'anno e viene dalla Roma dalla primavera della Roma con cui ha giocato tra il 2017 e il 2019 e quindi vedremo poi sistemata la corsia sinistra dove abbiamo pensato alla corsia destra dove Colombini e Natalucci sono in uscite con la manna che per ora non è adatto alla categoria poi per quanto riguarda l'attacco allora vi ho già detto tante cose stiamo parlando molto dell'attacco perché in questo momento è il reparto più importante l'attacco che vede Simeri è una pista veramente complicatissima ma continuo a ripeterlo un grande ostacolo è il suo ingaggio un ingaggio veramente molto alto inoltre su di lui ci sono tante altre squadre messe meglio di noi in classifica e per quanto riguarda Stanco ufficiale ha chiuso con l'Alessandria Stanco 3 classe 1987 che era in forza giocava all'Albino Leffe o forse al Vicenze in questo momento non mi ricordo bene Zamparo della Reggio Autaci mi sembra una pista difficile perché anche ultimamente sto giocando anche in Serie B quindi difficile che scenda di categoria per andare in una squadra che in questo momento è in zona play out quindi è sempre difficile e quindi le due opzioni principali sono Sorrentino Lorenzo Sorrentino che sta trovando poco spazio arenate ed è in cerca certamente di spazio per giocare per far vedere delle buone qualità che ha fatto vedere a Lucca con Bortolussi la coppia che salvò la lucchese poi retrocessa per fallimento e l'altra idea è il ritorno di Lorenzo Pinzauti o Pinzauti chiamatelo come volete chiesto proprio dallo stesso banchiere che vi vorrebbe avere l'attaccante che aveva avuto l'anno scorso che comunque quando era stato chiamato in causa aveva deluso nel campionato non ha giocato tanto scurato da un Bortolussi che ha fatto 10 gol in 30 presenze e sempre delle ottime prestazioni nei playoff quando è stato chiamato in causa per l'infortunio di Bortolussi oltre al gol contro il Carpi importante per sbloccare il risultato ha fornito sempre delle buone prestazioni tanto carattere tanta grinta che serve che manca a Zigoni e a Lalini in un sondaggio su Instagram il 76% ha votato Pinzauti e il restante ha votato Lorenzo Sorrentino quindi questi sono i due nomi in attacco si registra anche come ultima notizia un interessamento del Pescara per quanto riguarda Marco Firenze anche lui insieme ai due lì davanti è uno che deve assolutamente partire e quindi c'è il Pescara in questo momento è solo un interesse nulla di che nulla di ufficiale nessuna proposta fatta però in questo momento c'è il il Pescara su Marco Firenze che secondo me molto probabilmente tornerà in Serie B perché questa è quella la sua categoria adesso vedo se ci sono altre notizie di cui parlare oggi a livello societario nessuna evoluzione in queste ultime 24 ore e niente per l'attacco sono questi due nomi Lorenzo Valeo dovrebbe arrivare per ora nulla di concluso sbraga all'Arezzo Firenze seguito dal Pescara e nient'altro si torna al 10 porteremo anche una live su Twitch per Novara Olbia e quindi niente vi aspetto là su Twitch forse porteremo un altro video prima magari un prepartita comunque vi tengo aggiornati vi porterò anche un video velocissimo anche per spiegare la live come sempre tutto darvi tutte le indicazioni possibili e quindi niente ci vediamo in un prossimo video sempre forza Novara nel bene e nel male sempre forza Novara grazie a tutti i nostri spiegare